Il Pine Ambiente ottiene la certificazione UNIEN ISO 14001-2015 sui sistemi di gestione ambientale, un riconoscimento alla qualità dei servizi ma soprattutto delle procedure aziendali adottate per raggiungere obiettivi sostenibili e orientati alla standardizzazione dei processi. Ciò significa che la partecipata della provincia di Avellino si è costruita gli strumenti idoni per verificare e monitorare costantemente gli impatti del proprio lavoro, le attività svolte e le modalità operative sull'ambiente, ma anche controllare i costi, l'efficienza e la produttività, ridurre gli sprechi, migliorare l'efficientamento energetico e limitare drasticamente il numero di incidenti all'interno dei processi produttivi. Soddisfatto il presidente dell'ente di Palazzo Caraccio, Domenico Biancardi, mentre per l'amministratore unico Matteo Sperandeo si tratta di un risultato che obbliga la società a fare ancora meglio. È importante perché ci proietta in un quadro di rilevanza non soltanto regionale ma addirittura nazionale. Ci consente di spendere, se così vogliamo dire, questo tipo di certificazione di qualità sul mercato anche in prospettiva eventualmente di iniziative future che ci possono vedere protagonisti per nuovi servizi che eventualmente il Pini Ambiente si candiderà a gestire e quindi anche un aspetto di rilevante interesse per i nostri partner. La chiave del successo, secondo il direttore generale Armando Masucci, è nell'attuazione di procedure standardizzate che in breve tempo hanno fatto scalare ad il Pini Ambiente la classifica del settore ponendola tra le migliori 50 d'Italia. Nella classifica che è stata fatta, ultimamente ho letto sui giornali, in cui l'azienda, il Pini Ambiente era al 300esimo posto, oggi avendo questo certificato di qualità si è a 9 tra i primi 50. Quindi anche nel panorama nazionale abbiamo una credibilità perché coloro che verificano il nostro servizio a livello del mercato, avendo come obiettivo l'ambiente come tutela si rendono conto che la certificazione ISO 14000 è quella che tutela al massimo l'erogazione dei servizi.